Ci è mancato poco che andasse in tavola la frittata perfetta con Forlì trasformatasi in squadra di vertice e l'Enel a fare la figura della vittima sacrificale, ma ci ha pensato un grandissimo Renfro a rimettere in sesto una partita che a dispetto dei pronostici si è prolungata fino all'overtime. Primo tempo disastroso per i biancazzurri con gli ospiti addirittura più sette, placati solo da Renfro che allo scadere sigla il 14-19. Nel secondo tempo l'Enel comincia a macinare gioco ma ecco un'altra tegola esce Formenti per infortunio l'ennesimo che allunga la lista degli indisponibili in casa messapica gli uomini di Bucchi si afflosciano nuovamente negli spogliatoi, si va sul 36-45 nel terzo quarto sale in cattedra Renfro che si carica la squadra sulle spalle, la frazione vede ancora in vantaggio Forlì ma il vantaggio si accorcia 60-62, due punti che vengono recuperati nel quarto tempo risultato in parità e overtime dove l'Enel si ricorda di essere l'Enel. Renfro e il miracolato Formenti schiacciano gli ospiti e alla fine dilagano, finisce il 94-86, una vittoria che vale oro in chiave promozione, sul fronte domotecnica invece la buona prestazione del giallo-blu non cancella l'amarezza per una sconfitta maturata solo negli ultimi minuti del tempo supplementare a Verona alla fine la spunta la Tezenis e per gli uomini di Marcelletti, undicesimi in classifica con 20 punti, c'è davvero da mangiarsi le mani.